Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Come avrete già visto sicuramente dal titolo e dalla miniatura, oggi sono tornato a fare qualcosa, o meglio, portare un contenuto sul canale che non trattavo ormai da abbondantemente un paio d'anni se non tre, perché come vi ho detto centomila volte questo è un canale che completamente ha cambiato il suo tema e lo sapete, tratto, board game, war game, vabbè, giochi di carte e tutto quello che ci ruota intorno e ora da un paio di mesi anche giochi di ruolo e sto iniziando a portare anche gameplay di giochi di ruolo, proprio partite. Ci tengo a chiedere subito, però senza starci troppo, tanto l'avete letto nel disclaimer, quindi quello è un disclaimer che metterò in tutti i video di questo tipo, ho iniziato una collaborazione con dei ragazzi che hanno un server di Ark e con questa collaborazione qui stiamo portando avanti diversi video registrati sul loro server perché ricordo essere un progetto pvp dove ovviamente si può fare, anzi soprattutto, che è importante del gioco di ruolo, magari scambi, guerre fra tv, cose del genere, però soprattutto l'ammettazione Ragnarok, una mappa vecchissima, gratuita tra l'altro, di Ark che anch'io portai qualche tempo fa e ci tengo a precisare due cose, questo e gli altri che vedete, tre scusate, di Ark sono video promozionali, quindi senza problemi l'ho detto, c'è scritto nella descrizione e lo leggete nel disclaimer. Potete tranquillamente commentare, darmi consigli, anzi vi ringrazierei, datemi consigli magari su qualcosa da fare nel prossimo video, costruire una base, tamare un animale particolare, quello sì. I commenti di Ark li voglio sotto i video di Ark, quindi assolutamente non andate mai sotto un altro video, tanto l'avete visto, li modero, i commenti miei sono moderati, devono essere accettati, non andate mai sotto qualsiasi altro video di gioco di ruolo, di gioco da tavolo, a chiedermi fai Ark o cose del genere perché il commento verrà rimosso, sempre non ve lo leggo né niente, appena lo vedo lo cancello, quindi commenti di Ark sotto il video di Ark, lì poi potete darmi consigli, anzi vi risponderò e quant'altro. E no, non sto riniziando a portare i videogiochi sul canale, ripeto, è un video, saranno una serie di video promozionali per il server di questi ragazzi, ed è un server PvP dove ovviamente ragazzi c'è la componente PvE di Ark che è immensa, dungeon e tutto quanto, mod, ma soprattutto si può fare anche del San RP, però ve lo dico è un server PvP, clan wars e cose del genere. E ho conosciuto questi ragazzi tra l'altro simpatici, ci siamo divertiti insomma nella prima parte del video che vedrete ora, e ricordo che il server Asgardia, trovate tutto in descrizione, indirizzi IP e quant'altro, è aperto da meno di un mese, questo voglio che sia ben noto perché poi verranno fatte modifiche, aggiunte cose, per quanto già la mappa di Ragnarok ragazzi è bellissima, è piena zeppa di rovine e cose del genere, quindi non c'ha bisogno di tante modifiche, però ovviamente loro lo vogliono ampliare, vogliono portarci anche altre cose, altri contenuti e vi ricordo che è aperto da un mese. Ti muovi? Oddio. Oddio, un po' c'ha il carico, aspetta no dai, gli alzo un pochino il peso, gli alzo. Eh insomma, boh. No, gli alzo un pochino il peso, ci si arriva. Sennò ti porto io, tu mi butti la cassaforte e te la porto io. Com'era per mettere il tale nell'inventario da sopra della creatura, cioè per mettere i punti. Ah, è F. F. Ok, senza dover scendere. Non so se t'è passata di livello però, t'è passata. Ah, allora basta. Vabbè, vabbè. Ma bisogna andare con l'aquile. Ma senti, sì, si può. Ma aspetta, sì, sì, si chiude. Ma tu sei troppo lento, sai. No, ci sta con l'uscita, va, di buono un pochino, dai. Sì? Allora si va, si parte con la traversata per andare ai faro, vale, eh? Sì, va bene. Se vuoi vado la veloce con la viva, ma evite l'ho trasportato da me. Sì, non vuoi. Sì, non vuoi. Sì, però. Però aspetta, no, ma è come Blulu. Segue i miei amici, come fa? No. No, no, aspetta, si va piano, si va piano. Andiamo, andiamo, si va, dai, dai. Come lo tu guardi un po' Ark, dai. Vai, andiamo. Si fa il viaggio della speranza. Non lo scicardo, viaggio della speranza. Vero Ale? Vai, sto dietro. Cos'è che l'affare lì? C'è tante creature, no, che non ho ancora visto, è un lupo. Perché c'è le mod, sono tutte mod. Questo è un lupo. Questo è un lupo che lo sa mi passivamente e ti prende anche le bacche e la fibra. Vai, spettacolo. Che poi hanno aggiunto, mi sembra ieri, altre creature. Sì, 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 sì. Questa qua sotto il tipo è nuova. Quale? Eh, questa qua sotto di me, ancora non l'ho vista, l'ho vista adesso. Io l'unico, cioè, dove sono rimasto io, che giocavo però assiduamente, fai che, all'uscita del plesio, quindi. No, del plesio, del mosasauro. Quindi fai che, sono rimasto parecchio indietro. Aspetta, un attimino, ripiglio un po' di stamina, la creatura. Ci so, eh, ti vedo, eh. Sì, sì, ti vedo anch'io. Noi si va piano, si va piano, va sano e va lontano. Ecco. Ah, visto, hanno capito che quando muoiono, devono scomparire, invece che diventare palloncini e volare, come tempi d'oro. Ah, sì, all'inizio. Mamma mia, all'inizio era fantastico. Si sgonfiamo, le dinosaurie. C'è anche un po' vicino. Sì, qui, questo è bellissimo. E' un po' vicino, però, vabbè. No, vabbè, vabbè, è anche troppo. Va bene, è bella. Guarda che in server americani questa qua per il PvP è ideale, per iniziare. Per mettermi i portoni li metto lì, allora dove sei te? Sì. Sì? Sì, ma tanto si bugga attraverso le rocce. Ah, sì, anche se vedo viola, quindi, si chiude? Sì, sì, perché c'è... Sì, è quasi sempre verde adesso, con l'anticollisione. Aspetta, vediamo, prova a metterlo, eh, poi nel caso si toglie. Sì, sì, si può togliere, eh. Ora c'è il sistema di togliere. Ok, l'ho messo, ora c'è il cancello. C'è, c'è anche vello. Ah, te, non l'ho preso, allora. Ok, vai, ho messo, ora devo soltanto chiudere la combinazione se non erro, o no. Imposta pin, sì. Metto punti. Va, mettiamo un altro peso, vai. Allora, otto punti. Setto di foglia. Cinque punti. Ah, alcuni costano zero. Sì, perché sono quelli della mod. Mm, touch wall, è quello lì. Sì. Cartello di legno, e tutto è bello. Ok. Io buono l'ansia, ti giuro vi... Quei troiai del carnosauro li va affatto veniti, ti giuro, nanzi, altre volte. Come mi giravo ce l'avo dietro. Quanti ce ne è qui? Ok. Non c'è fatto. Quindi di risolto ci dovrebbe essere. Ok. Se poi tu le vuoi, non le vuoi usare, tu... No, no, non l'ho proprio visto. Sì, sì, no, no, le uso. Meno, ci mettono a casa forte. Ma la porta è stanche senza fondamenta, eh? Eh, lo so, però no, ve lo metto un attimino a coperta, non si sa mai lasciarla così fuori. Vabbè, tanto. A parte per distruggere ce ne vuole, eh? Un basta, non la c'è. Già, ritornare un po' su Ark mi ha fatto strano da morire. Mi ha fatto strano per centomila ragioni che non vi vado a descrivere, ma che chi mi segue da tanti anni lo saprà. Uno, perché è uno dei primi giochi che ho trattato veramente con persistenza sul canale, giorno dopo giorno. Due, perché è stato anche un gioco che oltre a tanto divertimento mi ha portato anche tanto nervoso, lo ammetto particolarmente. E Ark è stato un po' il mio cavallo da battaglia, come anche la mia nemesi. Cavallo da battaglia perché mi ci sono diventito da morire, giocandoci con vari clan e vari server e tutto. Però a un certo punto il mio canale era diventato soltanto un cane di Ark, e quindi giustamente la gente pretendeva da me Ark, dimenticandosi di tutto il resto. Perché una buona parte, una fetta dell'utenza me l'avevo fatta per quello. Però vabbè, è comunque un gioco che mi è rimasto nel cuore e mi ci sono diventito da morire. E tra l'altro le cose principali sono imparare le skill, passare di livello e costruirsi una base abbastanza logisticamente corretta. Concedetemi il termine perché in un server PvE, posti la metti pari, anche senza mura di difesa né niente, palizzate o animali che te la difendano. Però non serve il PvP, c'è da starci veramente ben attenti, anche perché costruite in una certa maniera, tanto se ti vogliono raidare, ti raidano, anche se ci metti 900 torrete e Ninja ne sa qualcosa. Però perlomeno cerchi di rallentarli. Cerchi di rallentarli quel tanto che basta a fargli perdere tempo e magari te loghi e cerchi di intervenire. Comunque quello che era importante insomma era rimparare un po' le meccaniche. E' stata quella la mia difficoltà iniziale perché non mi ricordavo manco come mettere le skill. Cioè non mi ricordavo neanche ad esempio col tasto J si chiamava la creatura e col tasto U si fermava. O anche semplicemente che col tasto I si va nell'inventario dell'omino, mentre invece col tasto F stando sopra la mount a cavallo vai nell'inventario della mount, vabbè della creatura. Non mi ricordavo assolutamente più niente, però devo dire una cosa. Ne sono rimasto piacevolmente colpito che dopo... Quanto è che è uscito Ark? Quattro anni? Eh sì. Quattro o cinque anni, almeno cinque, quando ero ancora in early access e tutto. Però l'hanno ottimizzato, cioè riuscivo a fare... Ora non so se erano 120, non ce l'ho l'indicatore, però almeno 60 li facevo. E per me 60 con tutto ad alto su Ark, ragazzi, non l'ho fatti mai. Mai, ve la assicuro nemmeno quando registravo i video a tempo su YouTube. Sì che ero veramente contento. La grafica l'ho trovata migliorata, si vede che hanno fatto anche aggiornamenti al motore grafico e tutto quanto. E poi vabbè, ovviamente, questi ragazzi ci hanno buttato dentro mod, nuove creature, nuove iscritte e cose varie. Quindi c'ho anche da rifarci un po' l'occhio. Si è trovato un lupo che non avevo mai visto. Una specie di tirannosauro che dovrebbe essere... La mia conoscenza un po' del Cretaceo, Jurassico, è un po' andata a calare. Insomma, era tipo un T-Rex, che vedete nel video, che non mi ricordo come si chiama. Insomma, ci sono tante creature nuove che non avevo mai visto. E questa mappa di Ragnarok è molto bella perché un po' come quella vanilla di Ark, c'ha una regione per tutto. È bella perché si passa dalle montagne innevate, alla classica zona magari di spiaggia, di costa, che ricorda un po' anche ambientazioni piratesche, vallate immense o soprattutto anche boschi rigogliosi con questi alberi veramente secolari altissimi. Però la cosa bella è piena zeppa di rovine. È quella la cosa bella, è molto da esplorare. C'è un casino di rovine e finalmente quelli di Ark, un po' come quelli di Age of Conan, hanno fatto una cosa secondo me spettacolare che lì veramente li faccio un applauso e voto 10, anzi 12. Hanno inserito i dungeon. I dungeon sono una cosa che secondo me ha salvato Conan, Conan Exile, ma l'ha anche rinvigorita perché c'è tutto, c'è tutto il PvE possibile e immaginabile su Ark, tutto, creature da domare, da tamare, anche le reliquie da andare a prendere nelle caverne e cose di genere, però dei dungeon mancavano. E per dungeon intendo dungeon, proprio dove becchi i mostri, vai avanti, liberi le stanze, magari apri degli screen e tutto e poi arrivi alla fase finale dove c'è il combattimento col boss finale. Anche queste cose le hanno inserite. Cose ovviamente ragazzi che poi con calma andando avanti nei video vi farò vedere. Ragazzi, preciso subito che questo video lo vedete un pochino più lento, ma anche perché è il primo e mi ci devo riambientare. Quindi sentite la mia voce narrante montata sopra, i prossimi, lo dico subito, non saranno così, saranno come vecchi video. Sì, ci sarà ancora la parte dove mi vedete così che ci narro sopra e cose del genere, ma soprattutto sarà... i buoni tre quarti saranno direttamente scene in gioco. Ora perché ovviamente mi dovevo un pochino riambientare, voglio finire di costruire anche la base, insomma, per far vedere qualcosa. Ho voluto provare anche un combattimento con l'aquila, perché ho visto l'aquila che mi hanno dato, insomma, se era abbastanza potente per portare oggetti, cioè come carico sì, però volevo vedere anche se era anche abbastanza prestante nel combattimento e lo è. Anche perché la creatura che ho battuto, come potete vedere dal video, era di un livello veramente altissimo, 150, insomma, era un livello alto. E quindi mi sono anche messo un po' a rifare i combattimenti, mi sono rimesso... sono partito all'inizio con l'armatura a piastre completa tipo Cavaliere Breton e dell'epoca e ho finito con il vestito di cuoio, perché poi a me mi piace step dopo step ricominciare da capo e rifarmi tutte quante gli oggetti e la logistica base. Il server vi ricordo che è un 4x, quindi si fa veloce, ragazzi, si attamare un 4x, tutto 4x, raccogliere un 4x, esperienza un 4x, perché la cosa importante è che, insomma, ora ARK è arrivato, cioè praticamente nel futuro, è diventato quasi Halo e quindi anche come me lo ricordavo io è andato oltre all'era tecnologica, addirittura c'ha jetpack, armi laser, quindi a me non piacciono, sono sincero, per me ARK è il primitivo, però arrivare fino all'ottantesimo livello, quant'è poi dipende dalle mod sul server, ci vuole un po' di tempo e senza 4x una finirebbe veramente per annoiarsi. Quindi ragazzi, riporto ARK sul canale, però, ovviamente, come vi ho detto, tranquillamente all'inizio, poi tutti gli altri video non lo ripeterò più, ci sarà direttamente il disclaimer, è la sponsorizzazione di un server, il server si chiama Asgardia ed è un server aperto da meno di un mese, trovate l'indirizzo IP e link per connettervi direttamente in descrizione. È un server, ragazzi, PvP, però è un server che ovviamente, se uno vuole fare anche un po' di RP, commercio e tutto, non lo disdegna, non è classico server che entri, ti raidano e finisce lì. Quindi se ci volete giocare, mi farebbe piacere incontrarvi, poi magari ci scappa anche qualche video insieme, farebbe piacere soprattutto agli amministratori del server e se avete voglia di giocare ad ARK, soprattutto è fatto molto bene perché poi ci hanno messo anche la mappa di Ragnarok. Quindi ragazzi, ribadisco ancora una volta, commenti di ARK, datemi consigli, chiedetemi cose, se riesco le faccio, nei prossimi video, anzi, mi ci impegno particolarmente per farle, ovvio, non ho una torre arte a 300 metri, però nel limite del possibile le farò, col tempo a disposizione, l'unica cosa, tutti i commenti di ARK o di qualsiasi altro gioco che potessi portare in futuro, sotto video che non siano di videogiochi, non li accetterò mai, quindi ve li bannerò tutti, ve li cancellerò tutti quanti. Per il resto ragazzi, se avete domande, insomma, scrivetemelo qua sotto e vi risponderò. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima!